Ciao a tutti, sono Valentina Ricupati e oggi mi trovo all'interno di Med Gallery Milano in compagnia della dottoressa Carlotta Biffi. Alle nostre spalle potete ammirare le opere di Almo, un artista italiano che è molto legato all'arte classica. Si vede appunto il modo di reinterpretare i modelli classici e in particolar modo manieristi attraverso l'utilizzo da una parte della linea serpentina, come potete vedere, dall'altra attraverso l'utilizzo di colori alla maniera del pontormo ed inoltre attraverso la legatezza dei corpi che hanno un che di scultoreo. Le opere hanno come tematica fondamentale la mitologia e vediamo da una parte Andromeda e Perseo, dall'altra Tetila Nereide. Adesso lascio la parola alla dottoressa Carlotta Biffi che darà per noi il suo contributo. Prego dottoressa. Grazie Valentina. Valentina ha detto che Almo ha un'importante modo di trattare il corpo di umano usando un neomalmeeristico, in uso dei colori e anche nel trattamento del corpo che è molto elegante e refined. Anche, la atmosfera che ha cercato di conferire all'arte è molto collegata alla metafisica che Giorgio De Chirico ha usato. Non si può vedere in il trattamento di un'escalata che conferì all'arte composta un'atmosfera che ci ha collegato a una storia di un'atmosfera che ci ha collegato a la mitologia scena che ci ha visto. Una forma di vedere l'artografia di Almo è il trattamento di dettagli, in l'utilizzo del di un'artografia di un'artografia di un'artografia di un'artografia di un'artografia di un'artografia. Grazie a tutti per aver guardato. E qui ci sono in Med Gallery Milano. So, ho visto a presto.